risolvere il problema riguardo al valve anti cheat che non ha i permessi per giocare perché serve il valve anti cheat attivo sul gioco quindi in questo caso per risolvere il problema ci dicono di verificare il nostro gioco quindi come primo passaggio andremo così a fare la verifica al gioco proprietà file installati verifica integrità dei file di gioco se non dovesse funzionare è possibile sempre uscire dal proprio account di steam rifare di nuovo l'accesso e poi giocare a contest strike se non funziona con quest'altro metodo andiamo sulla rotella proprietà file installati sfoglia i file locali andiamo su game pin 164 cs2 mostra attribuzioni proprietà firme digitali clicchiamo sul valve corpo dettagli visualizza certificato installa il certificato utente corrente facciamo avanti avanti fine importazione completata facciamo ok compatibilità esegui questo programma come amministratore modifiche impostazioni dpi elevati togli le spunte da qua fare applica e fare ok una volta fatto non ci resta che avviare il gioco andiamo su gioca vediamo se ci trova una partita alcuni dei file di gioco non hanno firme o hanno firme non valide non potrai unirti a essere protetti dal v ac usciamo un attimo dal gioco ritorniamo di nuovo sulla rotella proprietà file installati sfogliamo di nuovo la cartella ritorniamo sulla cartella del gioco quindi game bin 164 cs2 sulla compatibilità l'eseguo su programma amministratore non funziona togli la spunta qua modifiche impostazioni dpi elevati metti la spunta qua sistema avanzato e facciamo ok e facciamo apri avviamo di nuovo il gioco ed eccolo qua ho avviato la partita e me la sta trovando pensa che è uscito quell'errore del valve anti shit se questo video è stato utilissimo su come salvare questo problema iscriviti lascia like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao